L'Anselmo è nata 35 anni fa sulle tracce della vecchia Braivanti che non c'è più e abbiamo seguito la tecnologia della Braivanti proprio perché erano impianti affidabili e conosciuti in tutto il mondo. Produciamo impianti per la pasta che potete vedere nei video, un po' per tutto il mondo, quindi la nostra struttura è rimasta di spirito artigianale nonostante l'espansione che abbiamo avuto proprio per seguire clienti direttamente da vicino e costantemente perché il problema della pasta è quello di non mai lasciare impianti fermi, la costruzione e la affidabilità è importante ma anche post vendita, quindi assistenza ai clienti. In questo momento siamo presenti in molti paesi del mondo dove il consumo della pasta sta aumentando notevolmente, il mercato nostro l'80% è fuori dall'Italia e anche fuori dalla comunità europea. I nostri impianti sono impianti che vanno da 500 a 5000 kg ora di produzione e quindi è quello che richiede il mercato in questo momento, sono affidabili a livello dei concorrenti storici, abbiamo preferito seguire quello che è la qualità anziché andare sui bassi prezzi come il mercato a volte richiede, quindi i nostri impianti sono molto affidabili, non richiedono manutenzione per i primi 5 anni e danno un prodotto di altissima qualità facendo riferimento alle nostre paste italiane più famose. Il nostro punto di forza è il rapporto qualità prezzo, perché noi abbiamo impianti di alta qualità al prezzo inferiore dei nostri concorrenti, quindi è un punto importante perché oggi il prezzo conta più di tutto, oltre alla qualità del prodotto.